Durante i miei allenamenti mi trovo spesso a dover correre nelle fresche temperature mattutine o serali e per proteggere la parte inferiore del mio corpo in queste situazioni utilizzo il lavaredo Tektite un capo molto leggero e nel suo tempo con un fitting ergonomico nelle parti dove non serve la termicità è costruita con una rete morbida e totalmente traspirante un accessorio che utilizzo molto di questo capo è la fascia elastica in vita con le sue tasche laterali dove è possibile riporre un gel, una barretta o anche delle semplicissime chiavi mentre nella sua tasca posteriore con la zip di sicurezza generalmente inserisco il cellulare quando le temperature diventano un pochino più rigide utilizzo il lavaredo Wintertite che presenta le stesse medesime caratteristiche solamente con un tessuto un pochino più pesante mantenendo lo stesso comfort ricordatevi che vestirsi in maniera adeguata nelle ore più fredde in alta montagna può farvi risparmiare delle energie importanti e garantirvi la giusta sicurezza grazie a tutti grazie a tutti